È una piazza importante, frequentata da parecchie famiglie e anche un punto di riferimento per Montecchio con le parecchie attività che ci sono intorno. Il problema è che forse è troppo vissuta di notte, di giorno è una cosa perfetta. Di notte invece si ritrova ancora troppo spesso con delle risse, con delle, chiamiamole bande di ragazzi, ma non sono nemmeno bande, ragazzi molto piccoli di età che si attardano facendo tanto rumore e schiamazzi notturni e oltretutto le risse. La cosa molto preoccupante è questa, non si capisce il motivo, come mai questi ragazzi escono la sera per divertirsi e tutto va a finire in rissa. Abbiamo un riscontro di due settimane fa in cui sono state fatte, diciamo, delle belle botte. I residenti hanno chiamato anche le forze dell'ordine, pare che anche questa settimana lo stesso ci sia stata un'altra rissa, un pochino più contenuta. Il problema ritorna, diciamo, alla base. Allora, si possono dare tante colpe a questi ragazzi che non hanno da divertirsi, ma il problema è la famiglia, dove la troviamo di notte? Perché sono ragazzini di 15, 16 anni, forse anche più piccoli, che si attardano. Si parla delle tre di notte. Durante tutta l'estate è andata avanti così. Adesso pare che con l'inizio delle scuole si sia un po' attenuato. Nulla cambia la situazione comunque del venerdì, il sabato e la domenica. I residenti, sinceramente, sono veramente indignati. Malgrado sia stata messa una telecamera per controllare la zona, non si riesce a arginare il problema. Non saprei più che consiglio dare in questo momento se non riuscire a sviluppare delle politiche giovanili, coinvolgere questi ragazzi in un modo diverso. Io direi che per ridare decoro a questa piazza ci vorrebbe la collaborazione delle famiglie. Ritorniamo a vivere la piazza nel vero senso di comunità, di divertimento. Vigiliamo sui giovani che sono il nostro futuro e speriamo che da oggi in poi cambiano questi comportamenti per la tranquillità di tutti.